Ha pure quella! Se va! Chi va la nuova? Chi va la nuova? Di dari nefτα... Di vemquedenta ala... Minua��은 mati di atas? Minua Unidos adekumi 1 km Minua diagonale Clancy Masuk! Minua leads! Mayu sihat?? Working from 관u! Anggila! Bokeh-bokeh! che sei bene, quando non è davvero bene, quando non puoi capire, perché non puoi capire perché non puoi capire. Oh no 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 E barangigyequichiqui E barangigy Darım quando ha fatto Abbattara che ho la Bambacca Buti Bambacca Perché fai iludi Wó Bello! Buари! Budi! Buon sale! Buon sali! Buon sali! Buon sali! broader domani è tranquille! Poi, con i bando alla panna! Siapoi! Siapai! Di aragge la! Panna ai! Ok, no. Ok, ok, ok. Ciao a tutti, ho messi a benerlo. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok ok. Ok, ok ok. Ok, ok ok. Ok. Benda apa? Bila dia sampai, benda apa dia buat itu? Dia jatuh. Bukan. Dia dekat beli. Hampir lah. Hampir. Dah. Ok. Ok. Haa. So, hari ni habisah dengar tapi haa mesti jadi punya ni. Haa. Haa. Kenapa orang kutuk tak makan pengguna? Haa. Sebab. 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 Otak orang kutuk tak makan pengguna. Haa. 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 Saat lah. Haa. Saat lah. Semuak por saat do. Haa. Saat lah. Haa. 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 Maa italiken? Haa. Haa. Gim che la? Salah. Gim che la di semurazione. La parla. Kenapa... Sajer. Poi che la mamma che la cerita. E' mi ricche! Ci sono in grillo! Dì c'è si chiama Me Nunggu Semut Api C'è la Semut Semutan Cenggol Cenggol C'è la Ma la sua? Sì La quapainya? Haa, la quapainya? Semuanya tiada tu. Pekiclian, ok? La quapainya? Ohhhh. Ok, la quapainya. Sebab... Di luar luar! Di luar luar! Di luar luar! Ok, betul ke? Kalau ketam tengok... tengok apa? Sekejap. Ok, betul ke kalau ketam tengok ikan tu Macam tengok burung berterbangan? Betul. Betul tak? Bukan tak tahu. Betul tak? Betul tak? Tak jadi ni. Ayut dia lagi. Dah habis tu kan? Dah? Dah. Soalan apa tadi? Ok, kena mesti kena ditampil tak? Betul ke? Kalau ketam tak? Soalan tak merah! Muka lah! Bagi dulu. Bagi dulu. Bagi dulu. Muka lah. Heheheha. Ayak. 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 Ayak akal. Ayak akal. Ayak akal ya! Ini kan? Muka kat soalan. Oh! 3x Kenapa aku tak ada perut? Kenapa? Sebab pantai dia je tak ada? si 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 se 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 si 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 Ed. Eh. Oh e 50 mo! Sì! Emas? Se vuoi, non lo soo che non lo soo! Zulia? Emas? Wow! Pedi! Peribadi! Ok Dico io quindi se dov今天的 mia lana perché si 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 dimenticare perchè tu combina noi abbia si abbiamo detto c'è ok 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 Ah conversi Kenapa? Kenapa? Ma che sei anche? Tu farai la Y. Kenapa Y? Ok. Ok, ok, qua tu. Ok, va tu? Ok, ok. ma ma si non si ma 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 non ma non non ok 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 bapa pakrul ada empat orang yang engat oh ahli ahmad abu 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 dahit pancam siapa lagi satu orang pancik berapa pakrul berapa pakrul Ikan paus Buot kering Sebagai peladuk Ha 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 Sedat 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 Kenapa Adora tak Tak suka Adora Adora di Explorer Ha 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 io sabi molte molte cacarani l'oggi 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 ora l'odbero ok interesting vero 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 Why are you gay? Who said I'm gay? You are gay. I'm not gay. Why you are gay? Why you gay?